Grazie il drago primo per due, ti seguo La tua amica La tua amica preferita rispetto a me Vuoi una risposta? No, non la voglio, non la meriti No, lo so che preferisci Preferite le live con Gaia rispetto alle live con me, giusto? Vai chat, prego Sua amica La chat si divide Ma è un 50-50, va bene Come puoi paragonare la... Gaia è una ragazza bellissima È una ragazza che sa fare live su Twitch Però vaffanculo, cioè io sono io Ok ma non puoi paragonare l'amicizia Non puoi paragonare il mio rapporto con Gaia e quel rapporto con te Ok questo è un po' troppo No però è... Vabbè andiamo avanti Stai un uriaco zi, meglio se non parli No, meglio di no Allora te non ho pronunciato Diego Nasca in live Ok Sei tu? No È Marco Pocci? Del postino Pat Matrizio muore al lato Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti